Devo dire che... no, poi la satire è sempre bella comunque, però non lo conoscevo. Io fino a maggio non avevo mai parlato con Luigi Di Maio, onestamente non mi era mai capitato neanche a un dibattito. Solo con Casaleggio. Mai incontrato nella vita. La famosa cherella. C'è Repubblica che per due settimane ha detto abbiamo le prove di questo incontro Salvini-Grillo-Casaleggio. Mai visti nella vita, però sto ancora aspettando le prove. Cioè non hai mai conosciuto Grillo? Grillo l'ho incontrato una volta in aeroporto a Malpensa per andare a Bruxelles bevendo il caffè. Casaleggio non so che faccia abbia, Di Battista l'ho incontrato a un confronto pubblico, Di Maio prima di maggio non l'avevo mai incontrato nella vita. Posso dirvi una roba, poi può piacere o non piacere. Come attività di governo non lo conosciamo neanche noi ancora, la voglio dire ancora. Ho trovato in Luigi Di Maio persona di parola onesta e concreta. Poi ognuno può avere le idee che vuole. Ho trovato in Luigi Di Maio persona onesta con cui sto lavorando bene. Altri dei 5 Stelle? No. Però se uno mi chiede chi sono questi altri non rispondi. Ovviamente no. Ovviamente no. No. Andrì.